La lezione non è un film. La lezione è un momento in cui voi dovete capire al massimo. Quindi prendeteli al massimo quegli appunti. Potete prendere appunti come volete. Volete scrivere quello che scrivo io? Perfetto, scrivetelo. Volete scrivere delle parole chiave? Scrivetele. Volete fare dei disegni che vi richiamano alla memoria quello che è successo? Scrivete. Quali sono quelli più efficaci del mondo? A chi devono servire? A te devono servire. Quindi i più efficaci del mondo sono quegli appunti che tu apri il quaderno a casa, li vedi e sono chiari per te. Ti sei scritto quello che ho scritto io? Hai scritto delle cose accanto? Hai aggiunto altre cose perché il professore sta dicendo una cosa che tu vuoi ricordarti? Quelli li rivedi? Funzionano? Perfetto. Io avevo una scrittura pessima, me lo dicevano tutti. Io la capivo la mia scrittura e non solo la capivo. Ero stato talmente attento in classe che ormai la lezione si era stampata in testa. Però gli appunti li devi capire tu. L'importante però è prenderli. Capi? Mi raccomando.